Il Ministro Schillaccia. Grazie, buongiorno a tutti. Saluto e ringrazio il sottosegretario Mantovano per l'invito. Saluto le colleghe viceministri, i colleghi ministri, la stampa, tutti i presenti. Il consumo, la dipendenza da sostanze stupefacenti è un problema di salute pubblica al quale poniamo la massima attenzione. Domani si celebra la giornata internazionale contro l'abuso e il traffico illecito di droghe. Il tema di quest'anno c'entra un punto focale, The Evidence is Clear, Invest in Prevention. Investire in prevenzione è proprio quello che sta facendo questo Governo e, come ripeto sempre, lo facciamo affidandoci a rigore scientifico dei dati. Senza dati che ci permettano di conoscere la dimensione e l'evoluzione di un fenomeno, è chiaro che è molto più difficile intervenire e cercare di risolvere il problema. La relazione che oggi viene presentata offre ogni anno una fotografia completa. Il Ministero della Salute ha dato il suo contributo, ha analizzato gli accessi in ospedale correlati all'uso di droga e i trattamenti di cura presso i CERD. Cito brevemente alcuni dei dati principali. All'interno della relazione potrete consultare tutte le varie specifiche. Vediamo cosa è successo negli ospedali, gli accessi al pronto soccorso. Nel 2023 gli accessi al pronto soccorso per situazioni direttamente droga correlate sono stati 8.596, il 5% in più rispetto all'anno precedente. Hanno riguardato nella maggior parte uomini, i due terzi, persone di età compresa tra i 25 e i 44 anni il 41%, tra i 45 e i 64 il 24% con un 10% di minorenni. All'interno della relazione potrete consultare le varie specifiche.